Musica Impariamo a gestire il nostro stato d'animo, ospitiamo Alessandro Mora. Caro Alessandro, finalmente eccoci qua. Allora Alessandro, sempre più spesso parliamo di PNL, Programmazione Neurolinguistica. Io stesso quando dico un Master in PNL mi dicono ma che cosa è la PNL? Abbiamo qui chi mangia PNL tutti i giorni, cosa sei adesso, cosa sei diventato? Ti ho lasciato per un po' di tempo? Master Trainer. Master Trainer, massimo livello. Allora, che cosa è la programmazione neurolinguistica? Allora, la programmazione neurolinguistica, al di là del nome così altisonante, in realtà è una cosa molto semplice. È una disciplina che, diciamo così, studia l'eccellenza. Cioè fondamentalmente è andata a determinare quei comportamenti o quei pensieri, quei modi anche di comunicare, che i massimi esponenti che appunto hanno l'eccellenza nei vari campi di applicazione utilizzano per ottenere determinati risultati. Quindi è una sorta di proprio scienza dell'eccellenza che studia come appunto questi personaggi nei vari campi di applicazione riescono a ottenere risultati straordinari. Ecco, e una volta che si è acquisito come questi hanno fatto, ad arrivare ad eccellere in qualche modo in qualcosa, come viene rielaborato e come si riesce ad applicare e ad insegnare agli altri? In maniera, direi, piuttosto semplice quando ne hai le competenze. Ecco, perché questo è importante, poi magari dopo ne parliamo. Va bene. Il concetto è proprio attraverso il linguaggio innanzitutto, che è la forma di appunto comunicazione, il modo in cui abbiamo, il modo principio che abbiamo per influenzare le altre persone e soprattutto, che è la parte che spesso le persone si dimenticano, influenzare noi stessi, perché noi ci influenziamo in ogni momento, ogni cosa che diciamo a livello neurologico va a sedimentare sempre e quindi una buona comunicazione con noi stessi, che è la parte, secondo me, più importante, è quella che poi fa la differenza e ci rende efficaci. Io infatti la PNL la chiamo proprio il imparare a pensare in maniera un po' più furba rispetto a tante volte in cui magari ci facciamo tanti pensieri. Autodistruttivi. Allora, facciamo così, voglio fare questa cosa con te, Alessandro, perché noi spieghiamo e raccontiamo, ma secondo me l'esempio è sempre più esplicativo. Fai un esempio di qualcosa in camera, se riesci, che non bisognerebbe fare perché noi in questo modo coinvolgiamo il nostro cervello in processi che poi sono non positivi per noi. Sì, adesso prendo proprio quello che hai detto. Bravo. Il fatto del non devo fare, quindi la negazione per eccellenza, il nostro cervello elabora i pensieri sotto forma positiva, cioè non è capace di parlare, di recepire la parola non. lo fa a livello corticale, cioè razionalmente sappiamo cosa significa, ma se io ti chiedo di non pensare a tutto quello che ti chiedo dopo, la prima cosa che fai è pensarlo. Se dico non pensare a una scimmietta, già vedi la scimmietta, vedi la scimmietta, non pensare a come si chiama Baudo di nome, il presentatore, e ti viene da fare. Quindi per seguire questo compito devi prima focalizzarti su quella cosa e poi fare una fatica per pensare a qualcosa. Esprimerlo in positivo, per esempio non pensare alla scimmietta, pensa agli animali di grande... Sì, che poi ha poco conto, però se dico a me non mi devo preoccupare, non mi devo preoccupare, oddio non devo sbagliare, il nostro cervello non funziona in questo modo. Il nostro cervello ci dà proprio quell'immagine lì e tende a realizzarlo. Lo stesso con i bambini, se noi diamo delle negazioni. Un bambino dici, ok non rovesciare il bicchiere, quella è l'immagine che ha per un bambino, questo si chiama obiettivo, quindi tenderà proprio fisicamente a realizzarlo. E quindi invece imparare ad esempio a comunicare a noi stessi e agli altri in maniera positiva... È fondamentale. Allora Alessandro, abbiamo detto che questo spazio è per imparare a gestire le emozioni. Come? Allora, ci sono tanti modi. Intanto c'è un concetto base da tenere presente, che un'emozione, se ci pensi, non è nient'altro che un passaggio di sostanze chimiche all'interno del nostro organismo. si parla di biochimica. È certo. E quindi quando siamo, che ne so, super... Sentivo prima, no? Alcuni personaggi famosi nello sport. Cristian Ghaglina. Ma che cos'è? È uno spettacolo. Quando parla, fa. Fa, tu, vedi l'azione. È impressionante. E sentivo, lo sentivo a ragionare, e dicevo, in quei momenti dove ha fatto tutte quelle robe straordinarie, ha detto, c'è proprio un cambio biochimico. Hai visto che roba? Adrenalina, insomma, tutte quelle sostanze che creano proprio un determinato stato d'animo. Ecco, quando una persona capisce che lo stato d'animo non è nient'altro che un passaggio di sostanze chimiche diversi, ovviamente l'asciugo e tolgo la parte romantica, ti rendi anche conto che fondamentalmente sei tu che lo crei. Cioè non dipende da un comportamento esterno, non dipende da un qualcosa di esterno. Ovviamente poi non sono così zen da dire tutto quello che accada all'esterno di me non mi tocca. Ancora non ci sono arrivati. Bisognerà arrivarci. Esatto, probabilmente sì. Ma l'idea è che non è quella cosa che determina come io sto. Sono io che reagisco a quella cosa. Ad esempio, quando mi chiedi come ci sono tanti modi. Banalmente una delle cose che le persone non considerano è quello che butto dentro come mangiare o in qualche modo nel mio corpo è chimica che si trasforma e che di conseguenza influenza il mio stato. Qua parliamo non solo benessere, è di fondamentale importanza capire che, ad esempio, che ne so, se io ho mancanza di, tanto per citare un ormone famoso, di serotonina, ovviamente cala il mio umore, cala il mio stato, sono più triste. Certo. E quindi banalmente anche con l'alimentazione, con l'integrazione, si può arrivare a ristabilire dei livelli, si può arrivare ad aumentare la quantità di questo ormone. E questa è una roba banale che possono fare tutti quanti senza essere esperti. Per rumore, per esempio, tu parli, gestione di stati d'animo, se qualcuno si volesse aiutare anche con un prodotto naturale, con un integratore, eccetera, come potrebbe fare? Allora, ci sono alcune sostanze, ad esempio, che sono proprio precursori di questa serotonina di cui parliamo. Sì, ad esempio, che ne so, l'agrifonia semplicifonia, il magnesio, la vitamina D6, Sostanze di questo tipo creano naturalmente ovviamente di buon livello e di buona qualità. Questo sempre, prodotti di alta quantità, si trova in commercio qualsiasi cosa. Quindi questo è uno dei modi. Oppure Alessandro, come possiamo fare se riusciamo a prevenire il cambiamento di stato d'animo, ma se c'entriamo dentro ad uscirne? Quindi in tutte e due le situazioni. Bravissima. Allora, partendo da quello che è la nostra capacità, cioè che noi condizioniamo sempre la nostra biochimica con l'alimentazione, anche con altre chiavi che possono essere di, come dire, di pronto utilizzo. Una è ad esempio il come noi utilizziamo il nostro corpo. La postura? Ad esempio. Cioè se io sono giù di morale, automaticamente il mio corpo cosa farà? Le spalle sicure, giù, respiro corte superficiali, il respiro, assoluto. Quindi il respiro, l'espressione facciale è di un certo tipo, la mia postura è di un certo tipo, i movimenti saranno di un certo tipo. Ora, è facile capire come l'umore influenzi il mio corpo, ma tante persone non si rendono conto che vale anche il contrario. Cioè il come io sto fisicamente ovviamente è in connessione e influenza questa biochimica e di conseguenza influenza il mio stato d'animo. Banalmente, le persone che sorridono tanto e sorridono spesso mettono in circolo questa serotonina in maniera naturale. Anche un sorriso tirato, tra virgolette, cioè uno finto chiamiamolo così, dopo un po' ti fa scattare quei meccanismi. Ci sono le prove scientifiche, c'è chi proprio ha studiato e ha visto che se noi riproduciamo un sorriso anche se non ne abbiamo voglia, si mette in moto tutto il meccanismo proprio come dici tu, è proprio vero. E questo è una piccola cosa che possiamo fare in ogni momento senza, ripeto, dover fare una sessione di mental coaching o robe di questo tipo, ma sono piccole abitudini, tutto è l'abitudine, la grande differenza le fanno le abitudini, c'è un piccolo abitudine che ogni persona può iniziare a premere. Perché lo sport fa bene? Perché ti cambia questa, questa, come utilizzi il tuo corpo, il tuo respiro, la tua espressione del volto? E' ovvio che se uno andasse a fare, che ne so, correre o fare attività fisica tutto il giorno così, non avrebbe gli stessi benefici che non semplicemente si lascia andare in... Non è facilissimo fare sport così però, perché lo sport di per sé è... Ho visto, ho visto alcuni che ci... Arrabbiati anche mentre... Sì, sì, che ci ho avuto a me adesso. Ovviamente sto esagerando e sto estremizzando, però il concetto è molto importante. Bisogna imparare a guidare il proprio cervello. Assolutamente, sì. Questo fa la differenza. Secondo Alessandro Mora, che cos'è il benessere? Il benessere è... Il benessere per me è un viaggio, è una strada, innanzitutto, non è una meta. C'è un insieme di tante abitudini che mi fanno, ripeto, viaggiare in un particolare scenario della natura che mi piace e in cui sto bene e quindi è una serie di abitudini che io giorno dopo giorno metto in atto per stare bene. Cioè per me benessere significa stare bene senza nessuna ragione. molto spesso le persone hanno bisogno di un perché o di una ragione per stare bene. Secondo me è il contrario. Una persona dovrebbe avere una buona ragione per essere arrabbiata o per stare male mentre per star bene non ci devono essere ragioni. Il problema è decifrare proprio questo avere una buona ragione e talvolta è qui il problema. Non credi? Sì, perché molte persone la interpretano in, come dire, interpretano qualcosa che capita nello specifico nel peggiore dei modi e qui andiamo ad un'altra, ad esempio, modalità per imparare a gestire il nostro stato d'animo che è proprio il come, il dove focalizziamo i nostri pensieri. Magari poi di questo ne parliamo in un altro. Abbiamo modo di rivederci e di parlarne. Benissimo, grazie Alessandro Mora, dobbiamo parlare ancora di talmente tante cose, tutti i contributi di Alessandro Mora insieme a tutti gli altri professionisti li trovate come sempre su www.non-solo-benessere.tv